Allora, sarò sintetico. Oggi volevo parlarvi di un argomento che mi attanaglia da qualche ora. Il primo giorno di scuola. Foto di bambini al primo giorno di scuola. Didascalie della foto come se stessero andando in guerra. Piccolo guerriero, da oggi una nuova lotta e una nuova avventura ti aspetta. Nella sola Italia nascono circa 1200 bambini al giorno. Quindi sappiate, vostro figlio non è speciale. Quindi mi dispiace deludervi, ma vostro figlio è speciale solo per voi. Piccolo Anci e l'O...